buonasera a tutti è arrivato il pacchetto oggi di anna rosa per uno swap del gruppo su facebook amiche tra le righe ed era uno swap dell'autunno questo gruppo lo trovate su facebook e io faccio parte come admin e in pratica in questo gruppo principalmente nato per corrispondere con lettera cartacea ma oltre a questo si conosce molta gente e facciamo anche eventi come gli swap epmail eccetera allora apriamo il pacchettino di anna rosa qui c'è la letterina ok allora che carino il set delle princess con biancaneve e aurora con il quaderno e la penna vediamo se riesco ad aprirlo ok allora il cadernino alla spirale e poi le pagine sono così a quadretti e dietro è così invece la penna ma il cordoncino con cebel e c'è la ventola ed è a punta così vediamo che colore è blu molto carino poi c'è una cartolina con un peluche e la stellina mentre io faccio post crossing va benissimo poi degli sticky notes viola semplicissimi e altre cartoline allora c'è questa qui con un francobolo gigante quest'altra con un disegno questa qui questa qui con la macchina e poi per finire una matita con questa con una ragazza e la gomma ok quindi ripeto se dovete iscrivervi a questo gruppo si chiama amica tra le righe lo trovate su facebook dove si possono conoscere tantissime ragazze e fare nuove amicizie per questo video è tutto spero che il video vi è piaciuto mettete un pollice nell'in su e iscrivetevi al mio canale ciao ciao